il 28 maggio don davide don stefano vengono ordinati sacerdoti c'è un consiglio che vuoi donagli affidarsi sempre al signore come del resto ha sempre fatto di continuare così di entrare proprio nella dimensione dell'amore dell'amore con dio primo consiglio è quello di rimanere in comunione con gesù rimanere unito a lui e alle persone chiaramente quello che sta già facendo riesce a vedere gesù nelle persone io gli direi solo di continuare così cercare di non perdere l'entusiasmo la spontaneità che ha avuto qua con noi non farsi prendere da tutti gli impegni le le attività di ogni giorno che magari possono diventare abitudinarie invece cercare di scoprire sempre qualcosa di nuovo in tutte le cose che farà di lasciarsi guidare di lasciarsi toccare di lasciarsi interrogare lasciarsi plasmare da dalla comunità o dalla realtà che andrà a servire è stato educato ad aiutare il prossimo di mettere in pratica quello che gli ha insegnato il padre che gli ha insegnato la madre e di credere in se stesso sempre da un lato dico una frase di papa francesco non lasciatevi mai spegnere l'entusiasmo missionario lo zelo per il signore cioè il desiderio che questa parola di salvezza ricevuta che questo amore che si è scoperto forte nella propria vita debba essere trasmesso agli altri condividerlo viverlo insieme con gli altri di continuare a chiedersi il perché delle cose come ha sempre fatto con determinazione di continuare a farlo fidandosi al signore avere il contatto con la gente non perdere quello che è la cosa secondo me più importante che è quello di avere contatto proprio in prossimità con le persone perché veramente la loro missione secondo me è questa di rimanere sempre così com'è sempre con la gioia abbracciare la croce insomma appoggiarsi a lui andare avanti una grande umiltà una grande consapevolezza che è il signore che fa tutto e che quindi noi ci mettiamo a sua disposizione laddove andiamo il signore c'è già e lì lo incontriamo lì lo suscitiamo lì lo scopriamo insieme con i fratelli che ci sono stati affidati e quindi fare tutto questo questo entusiasmo grande missionario viverlo proprio nella pace nella tranquillità nell'umiltà del signore di servire lui rendere ogni giorno come viene soprattutto quelli più più di di insuccesso di confusione di tristezza proprio nella sicurezza della presenza del signore della servita di consacrato così finalmente non andrà più con la sua forza ma con la forza di dio mantenendo chiaramente i suoi talenti che ne ha di essere sempre se stesso che può essere che sembra una cosa banale ma in realtà ci credo molto e vorrei appunto continuandolo a seguire nelle parrocchie in cui farà servizio in tutto quello che gli chiederanno di fare in questi anni vederlo sempre il fratellone burlone che ho vissuto per 23 anni e che ho visto finora e che quindi spero che mantenga questa cosa tutto con il gioco ma nulla per gioco la mia formazione scautistica me lo mi impone questo motto però l'ho vissuto insieme nella realtà l'ho vissuto nella realtà molto concreta e quindi quella leggerezza che fa diventare tutto piacevole però nulla banale è un cammino che dentro di me ho dovuto fare per raggiungere questa cosa questa consapevolezza allora dico stefano non dimenticare lo capito di non avere fretta di non avere fretta in generale non avere fretta di fare le cose di non avere fretta di maturare di non avere fretta di imparare a fare il prete perché sette anni di seminario non bastano di non avere fretta di sapere aspettare i tempi giusti non avere fretta nel fare cose che poi magari sono fuori luogo possono ferire gli altri il signore ai suoi tempi e li sa gestire molto bene grazie